Gabriele Falloppio è stato un importante medico e anatomista italiano del XVI secolo, noto per i suoi contributi fondamentali alla conoscenza del corpo umano. Nato a Modena nel 1523, ha dedicato la sua vita alla scoperta e alla comprensione dell'anatomia. Dopo aver studiato medicina all'Università di Ferrara, ha lavorato in diverse città italiane, tra cui Pisa e Padova, dove è diventato un insegnante rispettato. La sua scoperta più famosa riguarda le «tube di Falloppio», strutture essenziali per la riproduzione femminile che collegano le ovaie all'utero. Falloppio ha descritto queste tube in dettaglio nel suo celebre libro «Observazione Sanatomicae», pubblicato nel 1561. Quest'opera ha rivoluzionato la comprensione dell'anatomia e ha avuto un impatto significativo sulla medicina dell'epoca. Oltre all'anatomia, Falloppio ha anche studiato le malattie. È stato uno dei primi a suggerire l'uso del preservativo per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili, anticipando i moderni concetti di prevenzione e salute pubblica. In particolare, consigliava l'uso di una guaina fatta di lino imbevuta in una soluzione chimica, un'idea molto avanzata per l'epoca. Un'altra curiosità è il suo lavoro sulle ossa e i denti. Ha studiato in dettaglio la crescita delle ossa e lo sviluppo dei denti, fornendo basi importanti per la futura odontoiatria. Inoltre, ha progettato strumenti innovativi per l'epoca, come una versione primitiva del catetere e altri dispositivi medici usati nelle operazioni chirurgiche. Falloppio ha avuto anche un profondo impatto sulla formazione dei medici del suo tempo. Come professore a Padova, ha ispirato una generazione di studenti, trasmettendo loro la sua passione per l'anatomia e la medicina. Molti dei suoi allievi sono diventati a loro volta medici illustri, contribuendo a diffondere le sue idee in tutta Europa. Gabriele Falloppio ha vissuto una vita breve, morendo a soli 39 anni nel 1562. Nonostante questo, le sue scoperte hanno lasciato un'eredità duratura nella medicina moderna. Le sue ricerche continuano a essere rilevanti, e il suo nome è rispettato in tutto il mondo scientifico. Gabriele Falloppio è stato un importante medico e anatomista italiano del XVI secolo, noto per i suoi contributi fondamentali alla conoscenza del corpo umano. Nato a Modena nel 1523, ha dedicato la sua vita alla scoperta e alla comprensione dell'anatomia. Dopo aver studiato medicina all'Università di Ferrara, ha lavorato in diverse città italiane, tra cui Pisa e Padova, dove è diventato un insegnante rispettato. La sua scoperta più famosa riguarda le «tube di Falloppio», strutture essenziali per la riproduzione femminile che collegano le ovaie all'utero. Falloppio ha descritto queste «tube» in dettaglio nel suo celebre libro «Observazione Sanatomicae», pubblicato nel 1561. Quest'opera ha rivoluzionato la comprensione dell'anatomia e ha avuto un impatto significativo sulla medicina dell'epoca. Oltre all'anatomia, Falloppio ha anche studiato le malattie. È stato uno dei primi a suggerire l'uso del preservativo per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili, anticipando i moderni concetti di prevenzione e salute pubblica. In particolare, consigliava l'uso di una guaina fatta di lino imbevuta in una soluzione chimica, un'idea molto avanzata per l'epoca. Un'altra curiosità è il suo lavoro sulle ossa e i denti. Ha studiato in dettaglio la crescita delle ossa e lo sviluppo dei denti, fornendo basi importanti per la futura odontoiatria. Inoltre, ha progettato strumenti innovativi per l'epoca, come una versione primitiva del catetere e altri dispositivi medici usati nelle operazioni chirurgiche. Falloppio ha avuto anche un profondo impatto sulla formazione dei medici del suo tempo. Come professore a Padova, ha ispirato una generazione di studenti, trasmettendo loro la sua passione per l'anatomia e la medicina. Molti dei suoi allievi sono diventati a loro volta medici illustri, contribuendo a diffondere le sue idee in tutta Europa. Gabriele Falloppio ha vissuto una vita breve, morendo a soli 39 anni nel 1562. Nonostante questo, le sue scoperte hanno lasciato un'eredità duratura nella medicina moderna. Le sue ricerche continuano a essere rilevanti, e il suo nome è rispettato in tutto il mondo scientifico. Grazie. 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 Grazie.